Ma a questo punto può scendere secondo me con una certa tranquillità e un bel brutto dei punti con una gara picolare che non glielo togliere su andiamo a provare partito alla gara da una sensazione, ecco qui nel punto più difficile mamma mia, è in forma, è in forma eccezionale da una sensazione di sicurezza davvero straordinaria Maggiardelli pensate che, insomma gli basta arrivare, guardate che roba, guardate che roba mamma mia, è in una condizione assolutamente straordinaria Maggiardelli grande, 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 anche qui in quel passaggio ha dato una lezione di C a tutti e continua a darla uh, questa è una magia secondo me straordinaria di Maggiardelli questa è una magia che vale quella di Roma, seconda di Roma di Teper per intenderci, grande, grande, grande campione è giusto che vinca, è giusto perché è più forte è un atleta che dice a vincere l'Islamo ormai dopo tutto quello che gli è capitato l'anno scorso che torna in pista quest'anno, guardate com'è felice è un campione grazie a tutti